gr1 economia autostrade a orologeria ogni giorno circolano 10.000 tir con carichi potenzialmente letali in italia su gomma va oltre il 90 per cento del trasporto quali normative regolano il trasporto su gomma per la sicurezza entrano in campo associazioni e sindacati buongiorno da paola bonanni l'autocisterna che ha innescato l'incidente a catena di bologna che ha che trasportava gpl porta ad un'urgente riflessione sull'intera rete trasporti italiana sono le 11.47 passiamo alla seconda parte di gr1 appunto economia e parliamo di trasporti i nostri ospiti sono ugo arrigo economista esperto del settore paolo uge presidente di fai conf trasporto antonio brizzi segretario generale del conapo il sindacato autonomo dei vigili del fuoco benvenuti a tutti ecco io prima di tornare su questo tema e vorrei chiedere invece a brizzi al segretario generale del conapo a proposito di tema della sicurezza ma perché sulle strade italiane non ci sono posti dedicati ai mezzi per esempio appunto quelli dei vigili del fuoco e magari poteva cambiare qualcosa nell'incidente è chiaro che si parla sempre con l'insenno di poi ma poteva cambiare qualcosa nell'incidente di due giorni fa allora buongiorno a tutti i radioascoltatori buongiorno a lei io vorrei partire con una cosa molto semplice scusatemi l'odo e l'operato dei colleghi vigili del fuoco che hanno operato perché sono stati veramente a rischio a rischio vita sì e volte e i colleghi due colleghi della polizia per una non guardo quanto costa e da dove si picciano i soldi perdonatemi certo che necessita che i vigili del fuoco in quanto facenti parte di una certa forza di polizia facciano parte ai controlli ai controlli dei mezzi durante il percorso ogni particolare nelle grandi autostrade dove ci sono ci dovrebbero essere dei posti posti fissi posti fissi di vigili del fuoco che naturalmente intervengano quanto prima o in aiuto o in ausilio delle forze di politica che naturalmente operano le autostrade ma voi ringrazio il ministro salvini e il sottosegretario cambiani che hanno assunto 1500 persone subito ma teniamo conto ne mancano ancora 5.000 nei vigili del fuoco ma voi avete avuto contatti ecco in questi due giorni vi state già muovendo in qualche modo ma noi adesso ci stiamo già muovendo abbiamo già fatto anche delle richieste di mettere dei centri fissi nelle autostrade e che questi centri fissi abbiano dei distaccamenti veri e propri personale che come la polizia controlla dal punto di vista di viabilità i vigili del fuoco controllino il soccorso e la sicurezza c'è una cosa importante vi faccio notare l'ANAS ha la qualifica di polizia stradale l'ANAS gli impiegati e i lavoratori ANAS i vigili del fuoco pur facendo quotidianamente viabilità sugli incidenti non hanno la qualifica di polizia stradale ma in questo forse dovreste muovervi anche voi come sindacato magari ma oggi più che mai necessita dare immediatamente la qualifica di polizia stradale ai vigili del fuoco